Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di Trebi Meteo. Diamo uno sguardo al tempo della giornata di martedì partendo dall'Europa dove avremo ancora un'area depressionaria sul nord atlantico responsabile di pioggia e acquazioni frequenti tra Gran Bretagna e Scandinavia. Andrà meglio invece sul Mediterraneo e sul resto dell'Europa grazie alla protezione offerta dal campo anticiclonico che poi si estende anche fin sulla Russia portando temperature anche piuttosto calde. Per quanto riguarda l'Italia la festa della Repubblica sarà dunque caratterizzata da bel tempo prevalente con cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi salvo maggior nuvolosità sulla Liguria e sulle Alpi. Per quanto riguarda le temperature minime in aumento e massime in aumento anch'esse con valori fin già verso i 28-29 gradi sulle zone interne del centro nord. Per quanto riguarda le previsioni dunque avremo una giornata in prevalenza soleggiata sulle pianure del nord con solo qualche nuvola sparsa soprattutto al mattino. maggior nuvolosità sulla Liguria e sulle zone alpine e prealpine dove ci sarà ancora il rischio di qualche isolato piovasco tra mattina e pomeriggio. Per quanto riguarda il centro giornata di bel tempo soprattutto sulle coste con cieli in prevalenza sereni per tutto il giorno. Qualche addensamento nuvoloso sulla dorsale con il rischio soltanto di isolati piovaschi pomeridiani su quella abruzzese. E infine al sud il tempo sarà bello con prevalenza di sole per gran parte del giorno salvo anche qui dalle notte instabili pomeridiane sulla dorsale Calabro sulle zone interne della Sicilia e su quelle interne della Sardegna. E per adesso è tutto, maggiori dettagli sul sito trabimeteo.com